Nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, a Pescasseroli, è più che mai attuale la questione legata alla realizzazione del depuratore. Sì, perché l'iter della complessa vicenda è partito otto anni fa e l'esigenza di un nuovo depuratore è avvertita dalla comunità locale da circa 35 anni, l'età dei due depuratori obsoleti che trattano il sistema fognario di Opi e Pescasseroli. Per il sindaco di Opi, Berardino Paglia, il nuovo depuratore è un intervento improcrastinabile, proprio perché si tratta di un'area Parco dove un'adeguata depurazione scongiurerebbe il pericolo inquinamento ambientale che mina inevitabilmente la tutela del territorio. Il primo cittadino di Pescasseroli, Luigi Lacesa, non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai nostri microfoni, definendo la situazione altamente delicata e ancora in corso di definizione. Chi ha idee chiare e preoccupazioni da ribadire è l'associazione WWF Abruzzo Montano. Ci sono alcuni aspetti che a noi sembrano decisamente critici, soprattutto il fatto che ci sia questa lunga conduttura che dovrebbe unire i due paesi di Opi e Pescasseroli e quindi passare sotto l'alveo del fiume Sangro, che già noi sappiamo non godere di grande salute. Quindi far passare una tubatura di tipo di acque nere, reflue, comunque sotto, tre volte sotto l'alveo del fiume, ci sembra anche un azzardo. Sta di fatto che il progetto del nuovo impianto di depurazione è realtà, con tanto di primo stralcio esecutivo di perizia e affidamento ad un ati che si occuperà del disinquinamento del lago di Barrea attraverso la realizzazione del depuratore in località peschiera. Le associazioni ambientaliste però chiedono ancora una conferenza di servizi con l'intento di valutare ulteriori soluzioni.